non capisco perché devi fare sempre polemica ultimamente sta di un polemico esasperato mamma mia non gli va bene un cazzo e prima tutta la storia ad attaccare gli altri rapper così a buffo che non gli andava bene niente poi ha iniziato a dire io ho la proprietà di tutti i miei master non parlate di soldi come dire io comunque guadagno una percentuale più alta è vero è giusto è un ottimo comportamento quando ti affidi a una major come società di distribuzione e comunque i master sono di tua proprietà e quindi giustamente guadagni la maggior parte che ci sono tanti artisti soprattutto quelli che hanno fatto successo tanti anni fa che comunque i contratti erano erano veramente criminali che veramente non prendono nulla dalle loro canzoni tipo il 6% sui dischi che vendono praticamente un nulla sciacalli invece gali no gali becca un sacco di soldi quindi diciamo che un artista che magari fa 100 milioni e becca il 6% se gali dai 100 milioni becca il 70% insomma a livello economico è una bella differenza ma perché lo devi stare a ribadire come a dire io sono più ricco non riesco proprio a capire adesso l'ultima l'ultima che gli stanno rompendo i coglioni che ha fatto la marchetta per mcdonald che non ci sta niente di male hai fatto una scelta ti hanno strapagato perché ste marchette le strapagano hai fatto la canzoncina come se fosse la prima volta poi perché Cara Italia con la Vodavone che poi fu una una canzone Cara Italia secondo me è la migliore che ha fatto quindi mi ricordo che proprio io anche personalmente mi scaricai lo spot solo per ascoltare la canzone quindi figuriamoci e che c'è di male poi è uscito il singolo ed è stato un grande successo ma che c'è di male che ti stanno a dire che sei un venduto perché hai fatto la marchetta per mcdonald ma che cazzo te ne frega e quando hai firmato non ce l'avevi pensato ma perché devi rompere i coglioni e soprattutto perché la devi mettere sul piano quello che stiamo facendo per mcdonald non è mai stato fatto in Italia ma perché ma ma che stai a dire cioè non è vero non capisco cioè perché hai fatto la pubblicità perché devi farla passare come una rivoluzione che ti rode pure il fatto eh no gli artisti vogliono il successo americano ma si comprano i featuring e che dov'è il problema lo sappiamo tutti ed è stato un bel flop questo comprare i featuring da parte di questi artisti lo sappiamo l'abbiamo visto uno ci prova uno prova a fare il suo e che ti devo dire poi il rispetto non si prende così si prende facendo buona musica ed è anche il motivo per cui magari ad esempio uno Sfera e Basta fa il disco pieno di featuring internazionali il disco eh a lungo andare non non ha i risultati che speravano perché perché Sfera e Basta magari ha delle buone melodie ma fa delle canzoni di merda concettualmente parlando sono canzoni che ti puoi ascoltare magari ti piacciono ma poi alla lunga la qualità lirica interpretativa e concreta delle canzoni che restano forse è questo che gli rode a Gali il fatto che non sto a dire che Walla sia una canzone di merda lo stavo per dire ma poi l'ho riascoltata e non non mi dispiace anzi però non è nuovo cioè sembra una vecchia canzone di Gali un po' diversa come il disco di Gali DNA cioè comunque segue quel mood il mood Gali va bene non mi dispiace capito però c'è un artista cioè il fatto è che Gali è stato un numero uno a livello di vendite a livello di escalation verso il successo no mi ricordo il periodo in cui lui e Sfera un mese usciva uno un mese usciva l'altro ed erano sempre i primi in tendenza quindi giustamente adesso gli rode che a un certo punto smetti di essere il numero uno quando arrivi ci sono altri e tu resti sempre tra i numeri uno però attacchi altre persone in cui rivedi un po' te stesso perché quando ti attaccavano perché facevi le canzonette che erano orecchiabilissime e ti hanno portato al successo eh ogni volta si attacca quello che di noi stessi rivediamo nel prossimo e quello che non ci va bene per me Gali è un buon artista pop che fa delle buone canzoni pop ovviamente non non mi sembra ecco questo non cioè c'è stata c'è stata una fase in cui il suo suono era geniale magari non ciò che diceva ma il suo suono era geniale da qualche tempo diciamo arranca il suo arrancare comunque si parla di due milioni e passa di ascoltatori mensili al mese meglio di così non lo so la morte quindi big up for you ehm arranca nel senso che fa canzoni che però ecco il top per un artista sarebbe ogni volta che esci ogni volta che fai un disco hai un suono completamente nuovo che è la novità e diventa tendenza siamo in un'epoca in cui invece non si ricrea più la tendenza sembra tutto è stato detto rifatto e via dicendo e quindi magari uno può fare un disco che piace tanto che ha successo però difficilmente uno crea il disco e poi cambia le regole del gioco il fatto è che ci siamo abituati male perché veniamo da un'epoca in cui in vent'anni le regole del gioco nel rap sono cambiate quattro volte e vi parlo di con trent'anni diciamo anni novanta prima rivoluzione rap fabbri fibre e compagnia seconda rivoluzione mischilla fedez e compagnia terza rivoluzione appunto sfere basta gali e compagnia e adesso vogliamo fare un'altra rivoluzione e no adesso non si fa più la rivoluzione ed è colpa vostra se non si fa più perché abbiamo la gente stufa delle cazzate e questo è il discorso adesso bisogna che ci sia qualcosa di veramente geniale ma la genialità è sommersa non arriva non diventa importante e quindi non diventa tendenza e noi siamo qui a cuccarci questo pop orecchiabilissimo lobotomizzati davanti a queste casse ieri sera per esempio c'era un tizio che si stava pompando in macchina pacchi a palla la canzone vabbè la canzone con un featuring comunque stava lì sto ragazzino con altro a pomparsi la palla in macchina a fianco passa un tizio con i meganoidi z reticoli io l'ascolto con le note quasi felice dico ah che bello io adoro questa canzone la stavano pompando a palla proprio che fa sto pezzo di merda alza pacchi talmente alto a contrastare ora chi è il genio qual è la canzone immortale z reticoli che non passerà mai di moda e sto parlando di per un migliore slancio o una delle tante hit di pacchi che è fortissimo chi lo nega ma che quello se lo stava ascoltando solo per farsi il fenomeno in mezzo alle ragazzine e z reticoli chi è che ha alzato il volume però quello che ascoltava pacchi e questo è il problema